bella a tutti ragazzi siamo su questo nono episodio io vado la chiave vedi se ci sta qualcosa l'alba dietro il tizio ci ha rubati il cane un fucile ottimo 5 perbole ci sta a miciù il piano è buone ci curiamo regà dovete sapere ragazzi che magari voi vedete questa serie ma io no perché non riesco a guardarla entri capirai scricchia l'altro po' come così hai avvertito tutti se c'era qualcuno si infatti ha fatto un macello ho fatto sali sali ma sicuramente mostri cadaveri si rialzano qua sulla testa ma qua dove è entrato il tizio da mostro cadaveri si è insomma così così ma non è che ha avversato però è una chiave da qualche parte fa lui andava verso destra però quando ce l'avevano c'è molto grazie ma questo è poliziotto ah cazzo è vero vedi senza testa no la regala sicuro è un modo di muoio ma che loro io non capisco quando muoiono si deva si muovono ma poi li fanno il sforzo lo scoprieremo forse solo più e nooo ma sta famiglia non lo so c'è un po' buono oh buuuu ma che chiave oh ah è la cosa della testa ecco noi abbiamo caricato filmato un filmatino blega occhio uno spunta eccolo è va bene palese 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 Cioè lui ti dà la mazzata e poi ti dice scusa, aspetta, d'altra parte. Posso farlo, Sam? Sì, cagazzo. Tu devi sparare tante volte. Però perde. Eh, però, hai visto? Se diventa così vuol dire che piano piano stava attaggiano qua. Mamma mia, ma se ne è che le farò proprio questi? Non bello. No, non bello. No, faccio me, penso. Oddio, magari ti coni, un enigma, tipo, se si leva a peso, casca qualcosa, che ne so? No, regà, gli fa un cazzo con il fucile. Carai, non le prende la secca! Ah, la fazza, la fazza, la fazza, la fazza. Se la prende lui, la fotosega? E mo' forse, se ti do così in testa, anche, cascata la fotosega la può prendere me. Ma lui l'ha aperto, quindi tipo prende un'altra. ma che cazzo che roba è, fagliate gli asti cosi, fagliate gli asti cosi, magari c'era bisogno di vedere, ma che cos'è vedi adesso la vuoi prendi, vedi via la vuoi prendi, attacca la cazzo, adesso va bene, ecco perchè pure tu c'ha fatto il rischio mamma mia, mamma mia ragazzi, scontro l'ultimo sangue, vai vai ancora con sta motosega Ngende... ótimo Adesso non muare No, attacca, a tai Hai te l'ho pregato, ti ho ripravuto per un affondo L2'r2 Ti l'ho andata? Non l'ho ferita, va bene, allora vado mi hai provides vai ancora fondamentale, so che a глаза cazzo che ha spaccato tutto non mi fa spostare ragazzi risa c'è della tensione non ci ho manca la nata eh cazzo mi sono perso quando stavo lì comunque di piano su questo non stavo l2r2 ma guarda come sei che sfigata bravo bravo appunta appunta schifo riduglieli dai il giacca mi conosco oh 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 t'ha preso così così t'ha preso io non posso fare niente così t'ha preso io non so come fa perché mi hai detto ti fa un vede molto vedi per tangueri tuoi lì mortanguerieri vedi vedi la saccata è passata saccagnata bravo vai affonta ok ok oddio ho flashato guarda quella para leva te no no ho fatto bene bravo guarda una para questa scarica mamma mia ho fatto una para scatata ah coglioni usa la vita usa la vita usa la vita corri usa la vita usa la vita eccolo eccolo ancora fonda 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 schifo ragazzi è pericolo la mano di più di più di tre si la mano di più di più di più di tre si e occhiali stiamo a morire mamma mia mamma mia non so come fa non so come smetti cosa sto stranì quanto sappiamo oh for oddio ti sappiamo davvero non è possibile la cacca piaciuta la cacca piaciuta la cacca piaciuta troia basta ma basta ma basta basta sì ma dai ma ma dai ma chi ti chiude il dovuto ma che oh 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 è una vo si ce l'avevo a marcia che cazzo è successo no no aspetta 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 fermo guardalo guardalo attaccalo attaccalo è morto è morto cioè se adesso si rigenera così io ti giuro ma si colgione ma sicuramente attacca ritornerà nella storia e c'ho la motosega regà è morto sega che cazzo facevo la motosega a farolone chissà che succede con la notte qua non teniamo sega come l'avevo a pregare la motosega vabbè io prima prego i x e non me l'ave aspetta 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 un po' non si rialza quello dietro vabbè c'ha più no no ne fa tempo si è rigenerato un'ambulazione e vabbè io me sto un po' bucchia vabbè vedi si è rottata la motosega ti ho detto hai ragione magari gari ciao raga io ne vado gari si ma torna dopo ragazzi adesso abbiamo la chiave ce l'hai ce l'hai ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho adesso se vuoi un modo di tornare magari questa sarebbe un po' mi posso dire sicuramente piano piano le serpente piano piano buono che ci fanno le munizie che schifo che schifo ma che in mano fa tutta l'indietro cosa che può essere ma è vai a salvare ti dico vado a salvare bella raga bella raga non sono la mia madre stanza sicura oh oh presidente presidente ma perché sta qua codaglie ma questa è stata cosa bella no presidente sposta il presidente piace cambiare vuole scave esatto vuole scave ne la faccio più quindi sarà un altro veloce dai un'altra se è tutto lasciate un'altra liga suscritti bella bella